I primi studenti hanno già cominciato ad appropriarsi dei nuovi spazi. Fra pochi giorni arriveranno anche gli altri quando lunedì 25 settembre partiranno ufficialmente i corsi della sede universitaria distaccata di Pesaro che sta completando i traslochi da Viale Trieste a Via Petrarca nella sua nuova destinazione a Muraglia. Da questo settembre Pesaro studi sul lungomare è infatti diventato un polo scolastico al 100% per i trasferimenti degli studenti della Dante Alighieri e della Mascarucci spingendo gli studenti universitari nella sede del quartiere 7 Muraglia Montegranaro che si sta riarredando con i materiali presenti a Pesaro studi. Alcune aule sono già pronte, altre lo saranno nelle prossime due settimane per accogliere oltre 150 studenti nei corsi proposti a Pesaro dall'Università di Urbino e dalla Politecnica delle Marche. Riprendiamo il 25 con l'inaugurazione dell'anno accademico anche se in questi giorni sono già attive alcune lezioni nei nuovi locali dell'Università a Muraglia. Il centro civico è stato completamente ristrutturato e riadattato alle esigenze dell'Università. Gli arredi sono quelli di Pesaro studi e gli ambienti sono stati già riattivati per consentire le lezioni. In tutto, quando tutti gli spazi saranno recuperati, saranno 7 aule per l'Università con spazi per gli uffici e anche una zona verde in cui i ragazzi, nonostante la lontananza dal mare, potranno studiare. Abbiamo avuto anche una risposta abbastanza positiva da parte dei ragazzi ma anche dei professori. C'è stato un lavoro di squadra di tutti gli uffici perché in 60 giorni è stato fatto un lavoro che di solito viene fatto forse in 6 mesi. Noi come Comune stiamo cercando anche di dare i servizi. Abbiamo contattato anche le imprese del territorio per poter dare ai ragazzi anche dei prezzi calmerati se hanno bisogno di andare a mangiare o comunque consumare intorno all'edificio. È un edificio che si presta, siamo riusciti a trovare la giusta soluzione e di questo sono soddisfatta anche perché comunque l'Università in questo modo può andare avanti. Il trasloco dell'Università ha portato alcune modifiche alle attività preesistenti nella struttura di Via Petrarca. Abbiamo ottimizzato gli spazi, abbiamo spostato alcune associazioni, abbiamo spostato la biblioteca, è stata portata nel quartiere di Villa Fastige e devo dire che anche in questo c'è stato un lavoro di squadra con tutti i quartieri. Di conseguenza gli spazi sono stati modificati anche all'interno e l'anagrafe viene spostata al lato, quindi non ci sarà difficoltà per i cittadini che devono andare a fare i certificati. La polizia lo stesso rimarrà sempre nell'edificio di fianco e il quartiere lo stesso avrà in condivisione con altre associazioni che sono rimaste nel luogo per poter incontrare un consiglio di quartiere. Abbiamo trovato anche la soluzione in questo senso.